De Iemo penetra con facilità dalla sinistra in area di rigore, si salva il portiere Castaldo con i piedi in calcio. Il Troina ha un pallone che sembra innocuo in area di rigore, si dibe di testa con un pallonetto, beffa il portiere del Gela Castaldo per lo 0-1. Grazie a tutti.